Tegola per la VL ad una manciata di giorni dal via del campionato. Danilo Petrovic ha infatti rimediato una frattura composta del quinto metatarso del piede destro. Tempi di recupero ancora da stimare, ma è difficile pensare di rivedere il lungo in campo prima di un mese. Non è da escludere dunque un ritorno sul mercato, mentre la squadra lavora in vista di Nardò con fiducia, come confermata l'hotel Baia Flaminia da Octavio Maretto, Sassaparrillo e Matteo Embrò, quest'ultimo scelto come nuovo capitano della squadra. Pesaro è una città che vive di basket, ha una grandissima storia e mi ha convinto l'ambizione e il fatto di avere un ruolo importante per seguire degli obiettivi che anche la società non dichiara, però tutti vogliono che si raggiungano. Sono orgoglioso di essere il capitano di Pesaro, come appunto dicevo, per una società storica dove sono passati tanti campioni, tanti capitani e quindi per me è un motivo di orgoglio. Rispetto agli altri anni è un campionato diverso perché è un girone unico, quindi ci saranno molto più partite, molte partite più difficili, e quindi diciamo che la concentrazione può dare una mano, la volontà, la tolleranza e non per ultimo per importanza è la fortuna che conta molto. Si riparte da un nuovo gruppo, sicuramente ancora da capire bene il modo di funzionare, tutto, però posso dire che la squadra sta andando avanti, facendo dei passi avanti, il gruppo si vede che è un gruppo molto bello, quindi penso che siamo nella direzione giusta. Io parto dalla panchina, del ruolo 3, però giustamente mi è stato sempre chiesto di difendere e di mettere tutta l'energia e alla fine di fare quello che so nel mio ruolo. Ho una sensazione molto buona, giustamente all'inizio sempre ci sono cose da modificare, da sistemare, però sento che queste sono cose che piano piano le stiamo sistemando e ti dico passi avanti ogni volta, quindi sono sensazioni positive. Quando chiama la VL non c'è da pensare, per me è stato così, mi ha chiamato Pino ed è stato un sì immediato. Finisce la preparazione atletica, siamo pronti ad affrontare questo campionato, sappiamo che sarà un campionato duro, lungo, intenso e noi dobbiamo essere bravi e concentrati ogni domenica. Sicuramente un campionato di livello secondo me più alto rispetto all'anno scorso, sono tante le squadre veramente forti che puntano ad obiettivi importanti e noi dobbiamo essere bravi ad essere concentrati soprattutto sulle nostre cose e fare di domenica in domenica quello che vogliamo fare, con tante frasi settimanali chiaramente, quello che vogliamo fare senza pensare tanto agli avversari, ma pensare a quello che vogliamo imporre noi in campo.